Salve a tutti ragazzi, il Pepe Ruzorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Super Mario RPG. Oggi continuiamo la nostra avventura e volevo proprio partire da questa casa, perché in questa casa il vecchio, ci aveva detto il vecchio Toad, ci aveva detto la location di altri segreti. E qui, signori, andiamo a vedere un pochino se ce lo ridici. Quando arrivi al crocevia vai a sinistra, poi a sinistra, poi dritto e destra. Troverai di sicuro qualcosa di bello. Ora io ho la guida, quindi me lo ricordo. Voi semmai segnatevi le coordinate, mi raccomando, l'unica cosa è che voi potete decidere se rubare o no questi tesori. Perché in base a se le rubate o no, e in base a quello che gli dite dopo, dopo averli rubati, se gli dite che siete stati voi, che ne sapete qualcosa o che non ne sapete niente, troverete appunto in questa location che va detto ora lui, che vi ha indicato ora lui, troverete appunto degli oggetti differenti. Secondo la guida la cosa meglio sarebbe non rubarli proprio, andare direttamente nella location e poi ritornare qui nella casa. Lui ti dirà, ah, le hai già trovate, allora tieni qua anche quest'altro oggetto. E quindi, insomma, sostanzialmente, raga, l'opzione migliore sarebbe quella di non rubarli. Ma io ormai l'ho già rubato, io non sapevo di questa cosa, mi sono andato a informare successivamente. E quindi, sti cazzi, non so se avete capito bene, è un po' un meccanismo un po' complesso, possiamo dire, però alla fine il succo è questo. Bisogna, bisogna andare, bisogna andare assolutamente nel Dedalo Boscoso, una delle location più famose di Super Mario RPG, anche una delle più intricate. Andiamo a vedere che c'è subito un tesoro nelle vicinanze. Vediamo un pochino dove è, potrebbe essere qui. Qui vedrai che questa dovrebbe essere un'area molto piccola, quindi deve essere per forza qui da queste parti, ragazze. Vediamo un pochino. Ah, qui intanto c'è un fungo, eh, raga. Vedete che c'era un fungo qui nascosto. Eccolo, eccolo, perfetto. Una ranacola, che cos'era? Non me lo ricordo. Fa recuperare tutti i PV al gruppo. Siamo attenti anche alla roba che possiamo portare e non, eh, che non possiamo portare. Perché comunque, poi non so dove va a finire la roba aggiuntiva. Tipo di alcuni oggetti ne possiamo prendere solo un tot. Possiamo saltare sopra al Torci Bruco per ottenere delle monete e poi possiamo anche sfidarlo successivamente. Che bellezza. Boom, mamma mia. Utilizzo una bella forza più. E noi però lo uccidiamo. Bello forte, ragazzi, eh. Bello forte, devo dire, bello resistente. Però penso con questo colpo. Pugniamo fine alla sua vita. Bravo Torci Bruco. E otteniamo uno sciroppo al miele. Saltiamo ed entriamo. Escono i Torci Bruco da quel tronco. Quindi veramente XP infiniti. Una farming infinita, veramente, se volete. Qui otteniamo il fungo e proseguiamo la nostra avventura. Qui sono... Ma quello non era un fungo, no. Era una bestia. Qui che cazzo sono... Che cazzo è sta roba? Gorillo. Magari Donkey Kong a lavori forzati, ragazzi. Con la corona di spine, poi. Donkey Kong Gesù, proprio. Ma che cazzo è sta roba? Mamma mia, signori. No, non mi fai nulla. Non mi rompere. Te che mi vuoi fare? Madonna, ragazzi. Un masso mi hai... Mi hai lanciato. Un cazzo di masso. La manita, poi. Abbiamo il fungo, chiaramente. PV al max. Che culo. Mmm. Male, eh. Male, male, male. Mi sto facendo colpire tantissimo. Madonna, ragazzi. Morite tutti e due insieme. Per favore. Ciao, ciao, proprio. Ti danno anche un bel po' di esperienza. Sfiamo il topino. Vediamo un pochino che cosa ci dà lui. Mmm. Madonna. Questi attacchi mi fanno cacare. Poi scappano tutti. Questo è un topastro nemico forte, però. Siamo attenti, eh. Beh, è già quasi sconfitto. È andato via. Vaffanculo topastro. Va bene. Fungo che non era un fungo. Nuovamente. Che bellezza. Fungomorfosi. Vai. A posto. Ci trasferiamo in un cazzo di fungo. Benissimo. Non vedevo l'ora. Madonna, buona. Mi curo, però. Mi curo, signori. Madonna, muori. Per favore, gorillo. Top. Non voglio stare a uccidere tutti i nemici del creato. Qui voglio anche andare avanti, ragazzi. Questo è un fungo normale. No, non è un fungo normale. Perfetto. Allora andiamo avanti. Non c'ho voglia di affrontare tutti, eh. Se no, davvero, che cazzo è? Usciamo e c'è un altro tesoro nascosto. Ho l'impressione che ci siano veramente tanti tesori nascosti, ma l'ho fatto apposta. L'ho messo apposta, appunto, l'anello campanella. L'ho messo chiaramente apposta. Secondo me è qui, tipo. No, non è qui. Proviamo a saltare un po' ovunque. Tanto potrebbe essere anche qui in mezzo, eh. Oppure dove c'è l'ape. Ci avrei anche la guida, ragazzi, da poter guardare. Ma tanto per queste cose preferisco scovarlo da solo. O scovarli da soli. Eccolo, era lì, proprio lì. Perfetto. Una moneta rana, comunque ci sta sempre. Il gorillo nemico forte. Attenzione, ragazzi, potrebbe essere difficoltoso. Utilizzerei anche un bel salto. Ecco, facciamo così, vai. E qui una bella elettroscarica. Cerchiamo di non... Madonna, ancora non è morto. Dai, eh. Il problema è che non muore. Cioè, va utilizzata qualche mossa speciale. Perché non muore, per davvero, raga. Un altro salto. Quasi sconfitto, dai. A questo punto andiamo ad attacco normale. Penso con un paio di colpi. Niente. Oh, un bel guscio in faccia. Ciao, gorillone. Ho dato anche un bel po' di esperienza. Perfetto, perfetto. Allora, allora. Qui c'è un... Un gruppo di... Di tronchi. Perfetto. Qui bisognerà esplorarli tutti, signori. Perché secondo me... Secondo me contengono un botto di segreti. Mamma mia. Qui c'è un tesoro nelle vicinanze. Ma ci sono anche 180.000 nemici. Cazzo. Bisogna stare anche attenti. Perché, ecco. Gorillo nemico forte. Non me lo dite, per favore. Qui utilizzerò subito la palla di fuoco, allora. Allora. No! Madonna. Mallo è morto. Non ci credo. Beh, mi dovevo curare, ragazzi, eh. Però c'è da dire. Bibita tirami su. Ma poi Mario mi muore al turno dopo, praticamente. Grazie. Grazie al cazzo, però. Regalino. Che è sto regalino? Subito, subito. Mossa speciale. Pioggia di PV a Mario. Ragazzi, salviamoci, eh. Dai, curati anche il veleno, no, eh. Oh, mamma mia, ragazzi. I gorilli nemici forti sono veramente delle bestie assurde. Però facciamo un nuovo livello, se Dio vuole, raga. Perché qui, se no davvero erano cazzi amari, amari. PV massimo aumentano. Io aumenterei a questo punto i PV. Visto che la volta scorsa, se non mi sbaglio, abbiamo aumentato il fisico. E io qui la stessa cosa, aumenterei i PV. Raga, facciamo un pochino tanto a caso. L'importante è aumentare un po' tutto. Dove può essere? Non vorrei affrontare tutti i nemici, ma mi tocca, ragazzi. Mi tocca che palle. Ecco, è una manita nemico forte, madonna. Utilizziamo un soccorsino Todd. Il fungo, non mi ricordo che cazzo faceva. Malla aumenta di potere. Fungomorfosi, madonna, ragazzi, qui. Niente, c'ho la spilla. Ah, non c'ho la spilla, ok. Mamma mia, 100 ragazzi li ho fatto. Vedete ragazzi, non abbiamo più spazio per i funghi? Infatti sarebbe meglio utilizzarli. Quando non hai più spazio, gli oggetti che non puoi portare con te verranno inviati nella casa di Mario. Ah, ok. Quando ti servono puoi andare a prenderli là, giustamente, ragazzi. Come se fosse un box del professor Hoak. Tipo dei Pokémon. Ho capito, ma questo coso dov'è? Secondo me è qui, da nell'angolo possibile. Eccolo, 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 eccolo. Un bel fiorellone, vai, perfetto. Qui si va via prima che ci distruggano. Andiamo un po' dappertutto, vai. Un altro tesoro nascosto? No, qui non c'è un cazzo, ragazzi. Quindi secondo me si può anche andare via. E diamo un fungo, raga, però a mallo. Vai, perfetto. Sì, devo utilizzarlo un pochino più spesso, lo so, ragazzi. Perdonatemi, però effettivamente se ci avete ragione, dovrei utilizzarlo un po' più spesso. Eccolo! Mamma mia che culo, l'ho trovato subito stavolta. Peccato! Che è successo? Non c'era un cazzo, semplicemente. Non c'era un cazzo e quindi mi ha detto peccato, ve lo prendi in quel posto. Eh, va bene, me lo prenderò in quel posto, che ti devo dire? Qui sono otto tubi, io veramente, ragazzi. Qui c'è qualcosa, qui non c'è un cazzo. Vediamo un pochino, però analizziamo bene. Nel territorio avessero esserci delle chest. Che cos'è? Che cos'è questo mostro? Octolot, madonnina mia. Ma è orribile, cioè veramente qualcosa di complicatissimo. Ma che cazzo è? Però è molto debole, devo dire, meno male. Mi ero preoccupato, si è spaventata anche l'ape. Ok, signori, ok. Qui no, non c'è un cazzo, meno male non c'è nemmeno chest. Madonna, ragazzi, ma non mi voglio smettere di inseguire. Qui non siamo entrati? Forse sì, raga, non me lo ricordo più. Sinceramente, sì, sì, sì. Perfetto. Entriamo invece qui. Anche qui non c'è un cazzo, signori. Assolutamente nulla, perfetto. E poi qui, tanto, insomma, se missiamo qualcosa ci possiamo anche ritornare eventualmente, ma anche qui non c'è un cazzo proprio, raga. Solo delle api che ci colpiscono a morte, purtroppo. Ok, dovremmo aver trovato tutto, spero, spero, ragazzi. Entriamo qui invece. Andiamo a vedere un pochino che cosa c'è. Eccolo, un altro tesoro nascosto, perfetto. Perfetto, perfetto. Ora sarà probabilmente qui, non svegliamo il tizio. Sarà qui nelle vicinanze, probabilmente. Oh, eccolo, mamma mia. Stavo rinunciando, invece, eccolo qui. E qui niente, svegliamo il tizio facendo così. Perfetto, si incazza come una bee. Ah, proprio si lancia in aria, perfetto. Sì, sì, sì. Ok, ah, si ritorna qui. Si ritorna di qua, perfetto. Non avevo visto questo sentiero, sinceramente. Quindi ci andiamo immediatamente. E qui c'è, mamma mia, comunque è veramente un labirinto a questo posto. Cioè, tutte le location sono identiche e spiccicate alle altre. Le une con le altre, veramente. E anche qui penso che se noi lo svegliamo ci rimanda in alto. Proviamoci, giusto così. Qui c'è un topo che vorrebbe rompere. Un fake fungo. Un fungo vero? No, sei sempre fake. Topo, qui evitiamo tutti, ragazzi. Ma chi cazzo me lo fa fare, sinceramente? Una cosa, una cosa, prima di continuare. Anzi. Sciroppo al miele fa recuperare 10 pf, eh. Comunque, attenzione. Lo utilizziamo uno, anche se poi sicuramente poi ora otterrò. Otterremo qualcosa che ce le ripristina. Dai, una lottina la facciamo. Semmai. Attenzione. Si può fare anche una lottina random con... Ma non c'è un fungo vero qui, no? Perfect, andiamo in alto. E sicuramente da qui, sicuramente da qui in poi ci sarà appunto quel labirinto che ci diceva il vecchio Toad con le direzioni che potremo prendere. Eccolo qui, ragazzi. È proprio questo labirinto. Come vedete c'è anche Geno, che adesso probabilmente lui scapperà a destra, mentre noi dobbiamo andare a sinistra, dritto. No, com'era? Non mi ricordo più. Già non me lo ricordo più, sinceramente, dove bisognava andare. Qui intanto io prenderei un funghino, innanzitutto. E si mette nella cassa. Allora, al prossimo si utilizza. Vediamo un attimino. Eh, oi. Dai, subito, eh. Fammelo utilizzare con Mario. Perfetto che qui a destra ce n'è un altro. No, era fake. Bastardo, mi ha ingannato proprio. Perfetto, allora io andrei qui a sinistra, ragazzi. Mi ricordo, sinistra, dritto, dritto, sinistra. Una cosa del genere. Oh, oh, siamo stati colpiti alla freccia per la prima volta nella nostra vita. Chi m'ha preso ora? Madonna buona. A dritto andrei. Non male questi nemici stanno cominciando a diventare molto, molto facili. Anche perché stiamo facendo un sacco di esperienze, un sacco di roba. Qui ci sono dei funghetti. Questo è vero, eh. Questo è assolutamente vero. Comunque, anche se non riusciamo a trovare esattamente la strada, secondo me, qui a sinistra dovrei andare, penso. No, allora ho sbagliato completamente la strada. Invece ci sono un sacco di strade alternative dove prendere dei funghetti. Un sacco di aree. Però mi sono subito, subito sbagliato, ragazzi. Probabilmente ho sbagliato la strada perché sennò ci arrivavo in quel posto che mi diceva lui. Invece, servirebbe tipo una mappa qualcosa, capito? Un altro fungo. Mamma mia che palle, ragazzi, comunque. Se torniamo indietro ritorniamo qui, eh, comunque. Quindi, sì, occhio. Prima di andare a sinistra, poi sotto, esatto. Poi nuovamente sotto e poi a sinistra. Proviamo ora. Sì, forse sì, ragazzi. Quindi era sinistra, sotto, sotto, sinistra. A regola. E eccoci arrivati qui in questa stanza dei segreti. Chiaramente, come ho detto prima, in base a quello che fate con il vecchio, se rubate gli oggetti, se rubate i tesori, oppure se glielo dite, se non glielo dite, comparirà della roba diversa. Non vi immaginate che compare roba troppo diversa. Cambia poco, signori. Cambia veramente poco. Qui otteniamo una moneta rana, un fungo, un fiore, un altro fungo e un altro fungo, ragazzi. Quindi, insomma, cambiano solo delle combinazioni, se non glielo dite, se non prendete il tesoro, ci saranno tipo tre fiori, una cosa del genere. Chiaramente è meglio aumentare i fiori. Però, signori, alla fine questo è quanto, come vedete. E nulla. Adesso possiamo ritornare indietro, fare così. E poi riandare avanti e ritornare nel punto di partenza. E a questo punto sì che potete seguire Geno. Quindi lui va in alto. E lo seguite, ovviamente, adesso non c'è molto da fare se non seguire lui, alla fine. E come vedete, tac, cade in terra come uno scemo, perché ancora non sa camminare il povero Geno. Riva in alto. È veramente un labirinto, ragazzi, questo posto, assolutamente. Si addormenta per un attimo e poi va avanti. Non si sa bene perché, va bene Geno. Complimenti per la tua narcolessia. Ed eccoci arrivati. C'è un tesoro nascosto nelle vicinanze, anche, oltre al punto di salvataggio, che mi fa molto piacere, appunto, sicuramente adesso mi fa molto piacere salvare. Anzi, salviamo subito, vai, perfetto. Che qui non si sa mai. Salviamo nel slot 1. Perfetto, perfetto, adesso cerchiamo il tesoro, tanto dovrebbe essere, secondo me, qui, tipo. È più avanti, non è più dietro, è più avanti, secondo me. Comunque, regà, alla fine ci ho pensato. E anche se mi stiamo qualche chest, sti cazzi, regà, sti cazzi, eh. Cioè, al massimo ci ritorniamo poi dopo, in post-game. 997, 998, 999, mille, gna ha ha, mille frecce, guarda come scappano, gna ha, che spasso, adesso gliele tiro altre mille, gna ha, dice arco. Mario, chi è quel tipo? Deve essere lui a tirare tutte quelle frecce su Borgorosa, penso proprio di Sizzio. Vedrai che, se no, eccolo, mamma mia, ragazzi, un vero arco umano, con la cappa. Che felicità, gna, guarda, guarda che faccia hanno, tutti congelati. Tira piedi di arco, wow, imbalsamati come statue. Mamma mia, ragazzi, sono veramente fusi questi. Ahaha, devo allenarmi di più, gna. Ahaha, ok, prima di affrontarlo io direi che ci mettiamo una spilla decente, non la spilla campanello. Oh no, non si ferma, dobbiamo fare qualcosa, forse affrontarlo, che dici? Chi pensi di essere? Non puoi buttarti là in mezzo, venendo pugni a casaccio. Sono troppi, ci faranno a polpette. Mario pensa, ragiona, ma tanto lui non è che ragiona molto. Oh no, arriva qualcuno, nascondiamoci e vediamo di capirci qualcosa. Ecco, bravo, nascondetevi. E qui c'è la seconda stella, signore, un tirapiedi di arco che porta direttamente, non si sa con quale forza spirituale, la seconda stella, quella verde, direttamente ad arco. Guarda cosa ho trovato, arco. Cosa, cosa? Non disturbarmi, mi sto allenando, gna. Devo tirare più frecce, devo emodellizzare più gente, gna. Basta. Adesso che c'è Geno che arriva, smettila subito, non ti rendi conto di quello che fai, restituiscimi questa stella. Che gna, uno straniero, madonna, guardate la faccia. La faccia di arco, ragazzi. E dall'aspetto piuttosto strano, è perché te invece sei tutto normale, madonna, ragazzi. Ora ti spiego chi comanda qui, gna. Compa, siamo Geno, ragazzi, siamo Geno, quindi, in persona. Chi sarà mai, gna? Sono al servizio di un'autorità più alta. Quel frammento di stella appartiene a tutti, non puoi tenertelo. Gna, gna, io faccio quello che mi pare. Disse quello che ci aveva il culo collegato dalla testa con una corda. Ora ti do una bella lezione, gna. Ok, eccoci qua, perfetto. Non so se, se le tira proprio, se le prende dai capelli, veramente, queste frecce, le lancia all'infinito. Mario, è pericoloso là, ci sono gli uccellini, scusami, è pericoloso. Viene a quel cefo strambo, salva il tipo in blu. Anch'io. Mamma mia, che pugni, ragazzi. Ma da qua giù, bene, grande, grandissimo. Il coraggioso del gruppo, veramente, Mallow. Io non ho paura. E non piangerò. Ora, una freccia addosso. Ecco, perfetto, subito caduto. Grande Mallow. E subito, ragazzi, si affronta Arco. Stop, basta così. Mamma mia, pugno volante. Sei forte, gna. Ma io lo sono di più. E lo sentirai. Ah, ah, ah. Fregce in culo, no. Addio, gna, me ne devo andare. Gna, gna, gna. Mamma mia, ragazzi. Mario, salva Geno con un salto incredibile. Grazie dell'aiuto. Ma chi sei? Mario, mi hai piantato in asso. Ci conosciamo, un'area familiare. Ah, ma sei quel, Mario. Sappiamo tutto di te. Toc, toc. Gna. Mi sento il sultato. Gna. Ora, hai rotto il cazzo. È bello, madonna buona. Ti faccio fuori in due secondi. Ecco, perfetto. Ho iniziato tutto da una cazzina. Siamo arrivati alla boss fight finale. Va bene, attacchiamo a questo punto. Vediamo un pochino che cosa può fare Geno. Geno. Colpisce un solo nemico. Tieni premuto A e rilascia il momento giusto. Proviamolo subito. Perfetto, signori. Raggio Geno, mamma mia. 72 di danno. E via, eh, proprio. E via. Anche qui, mosse speciali, subito. Comincerai subito con un super salt. O anzi, palla di fuoco. Subito, ragazzi. Premo A. Perfetto. 32, però mi sa che non era molto resistente. No, non volevo fare l'attacco, ragazzi. Vabbè, ho sbagliato. 3 contro 1. Eh, in effetti, non vale. Ora ci penso io. Gna. Adesso scoccherà una freccia. Se va a segno quel pulsante. È bloccato. Gna. No, non me lo dire. Anche il soccorso Todd è bloccato. Lui lo sa che cos'è il soccorso Todd. Ora combatteremo alla pari. Lui lo sa. Faccio io le regole. Poche storie. Gna. Benissimo. Qui sono i pulsanti proprio della Switch. Bloccati tra pochino. Ok, attacchiamo con Geno. Che cazzo attacco era? Non lo so. Comunque, qui io utilizzerei Mossa Speciale con Mario. Vorrei utilizzare la Chiaroveggenza con Mello. Andiamo a vedere un pochino se si può. Oh. Andiamo a vedere un pochino. Efficace? Niente. Non è efficace un cazzo contro di lui. Perfetto. Chi sono questi? Sono vestiti in mondo strano. Bellissimo. Gna. Mi mandano su tutte le furie. Gna. Quando utilizziamo la Chiaroveggenza. Ecco, non posso premere A e quindi che cazzo posso fare, scusami? Non posso fare un cazzo, cioè. Ah, ok. Raggio Geno lo posso usare, però. Ah, vabbè, qui peccato, eh. Qui solo di mosse speciali, ragazzi. Si va e si va di salta a questo punto. Non posso manco premere A al momento giusto, a quanto pare. Pioggia di PV su Geno. Anzi, utilizziamo un oggettino, dai. Un bel fungo. Perfetto. Geno ringrazia. Elettricità statica anche lui, il pezzo di merda, eh. La utilizza. Boom! Spaccato, veramente. E ancora c'è di strada da fare, però, eh. Super salto? Un po' troppo, secondo me. È un salto normale. Mamma mia. Sì, possiamo fare. Non è che li tolgo molto, eh, raga, però, purtroppo. 30 PV a tutto il gruppo. È proprio quello che ci serve. Giri in cola? No, ragazzi, se no, una bella pioggia di PV a Mario, che mi sembra che è abbastanza scarso. Ok. Ok, possiamo premere A. Meno male. Quindi non possiamo utilizzare mosse speciali. Aia, però, dai. Così no, che cazzo. Non me l'aspettavo. Non ho nemmeno una bibita tiramisù. Sì, che ce l'ho, assolutamente. La utilizziamo subito, povero Geno. Devo stare più attento, eh, raga. Devo stare più attento, assolutamente. Qui attacco normale per forza. Madonna, buona, ti bastono, veramente. Ah! Non riesco a difendermi. Madonna, ragazzi. Bello forte, eh, devo dire, cazzo. Mmm, ok. Anche sto soccorso Todd non disponibile mi fa venire Uggia, veramente. Qui non lo so, vedrai. Possiamo provare a utilizzare elettroscarica. Vediamo un pochino se fa qualcosa, ma io non penso, eh. 16, che schifo, cazzo. Mamma mia, che schifo, ragazzi. Raggio Geno, dai, eh. Dai, colpiscilo con sto cazzo di raggio. Almeno ti togli 70. Qui il salto. 26, ho fatto una cazzata. Oh, mi son difeso dalla freccia. Mamma mia, ragazzi, incredibile. Dai, dai, che lo eliminiamo ora. Dai, che lo eliminiamo, cazzo. Madonna, buona, è fortissimo comunque questo qui. Ah, gna, si mette male. La cipicchia potrebbe essere la fine. Gna, madonna, speriamo. Devo bloccare tutti i pulsanti. Gna, no, non me lo dire. E come cazzo faccio, scusa, a bloccare tutti i pulsanti? Se blocchi tutti i pulsanti, cosa faccio, scusami? Mi difende e basta, quindi. E ora cosa facciamo? Ci ha impedito qualsiasi mossa. Ascoltate, abbiamo dimostrato di essere una squadra affiatata. Uniamo le forze noi tre e sconfiggiamolo. Dai, Egeno, fate l'attacco supremo finale in tre, dai. Come dici? Gna, se volete farmi un brutto scherzo, risponderò con la vostra, non ho letto. Oh, gna, io non ho gli altri alleati con cui unire le forze. Cazzi tuoi, madonna, ora morirai. D'ora in poi potrò usare le mosse a tre. Queste mosse sono disponibili solo quando l'indicatore azione è al 100%. Adesso riempirò il tuo indicatore, ma solo per questa volta. Intesi? Non ti preoccupare, è già al 100%, quindi zio. Mossa a tre subito. Salutiamo Arco di nome di fatto. E utilizziamo Surf Stellare. La potenza dei frammenti stellari si scaglia su un singolo nemico. Proviamolo. Mamma mia, signori. La ste... Vabbè. Vabbè, ragazzi. Mamma mia. Ma una mossa suprema, cazzo. Arco, ciao ciao, veramente. Ciao Arco, proprio arrivederci e grazie. Mamma mia, ragazzi. Che bellezza questa cutscene. Veramente spettacolare. Buah. L'abbiamo vinto. Teniamo anche una scatola di fiori, signori. Beh, devo dire, guarda, guardate che, sì, semplice comunque, però non semplicissima, insomma, eh. Non eravamo ultralivellati, quindi devo dire che ho avuto anch'io le mie difficoltà. Grazie per l'aiuto, mi avete davvero tolto dai pasticci. Capite da guardare, lo sapete che sono ben più di un pupazzo, no? Sappiamo, sappiamo, avete capito la verità? In realtà io provengo da molto in alto e questa mia forma è soltanto temporanea. Vuoi dire tipo dal cielo? Ben più in alto, temo. Avete mai sentito parlare della via stellare? Non ne avete proprio idea, eh? Beh, lassù al momento c'è un bel caos e purtroppo questo riguarda anche voi. Ora vi spiego tutto. Avete presente quando si vede una stella cadente e si esprime un desiderio? Sì, sì. È nella via stellare che i desideri vengono trasformati in stelle. Quando si avvera il desiderio si trasforma in una stella cadente che arriva nel vostro mondo. Come vedete, la via stellare gioca un ruolo fondamentale nella realizzazione dei desideri. Però una spada ha distrutto la via stellare e tutto si è affermato. Adesso è il caos. Da quel momento non sono state più create stelle cadenti. Allo stato attuale delle cose questo è un mondo in cui i desideri non si possono più avverare. Vuoi dire che questa stella fa parte della tua strada stellare? Si chiama via stellare, mio piccolo batuffoloso amico. Comunque sì, questa stella è un frammento della via stellare. La mia missione è ritrovare tutti i frammenti e riparare la via stellare. In tutto i frammenti stellari sono sette, come sapevamo appunto. Perché il ritorno della pace vanno raccolti tutti. Praticamente, dobbiamo sbarazzarci di Fabbro Magno, trovare tutti i frammenti stellari e riparare la via stellare. Io mi chiamo, cuore, nota, punto esclamativo, punto interrogativo, ma un nome molto difficile da pronunciare. Quindi chiamatemi Geno, come il pupazzo. L'ho scelto perché mi sembrava il più forte tra tutti i pupazzi. In effetti, c'era quello di Mario, quello di Bowser e quello di Peach, hai fatto bene probabilmente. Ora prendi la stella, Mario. Dai, prendiamo sta stella, ragazzi, la seconda stella. Oh, finalmente. Eccola qua, signori, la seconda stella. Quella verde. E Mario la accoglie. Oh, che bellezza. E presa. Anche la seconda stella. Abbiamo preso quella blu, quella verde. Ci mancano praticamente tutti gli altri colori dell'arcobaleno, insomma, praticamente. Top, perfetto. Forza, diamo inizio alle danze. Geno, in cerca di frammenti della via stellare, si unisce a Mario e a Mallow. Sicuramente sarà un buon aiuto, devo dire. Le cose si mettono bene, effettivamente sì, perché comunque Mario e quel coglione da soli sinceramente non facevano un cazzo. Ah, ho sentito tutto. Chi avrebbe mai pensato che quella stella fosse così importante? Devo dirlo subito a Fabbro Magno. Ma te rompi i coglioni ancora? Madonna che palle. Il segreto delle stelle cadenti è stato svelato. Trova tutti i frammenti stellari e riporta la pace nel mondo di Mario. E quindi, signori, qui c'è comunque il tesoro nascosto che non avevamo preso prima. Potrebbe essere veramente tipo qui. No, dai, no, più avanti no, non può essere, quindi. Eccola, mamma mia, ragazzi, che palle. Ho cercato il lungo e il largo, ci ho messo un'ora. Essenza rossa, oh. Che cos'è questa essenza rossa? Rende invulnerabile per tre turni, può tenere al massimo tre, ci credo, ragazzi. Che roba, veramente assurda. Abbiamo la carta contralto, sì, vabbè, questa è quella che ci hanno dato nello scorso episodio, perfetto. E qui direi che si può anche andare a vedere cosa c'è dentro questi tronchi. In realtà non si può entrare, quindi, meno male, non c'ho tanta voglia di entrarci, eh, devo dire la verità. E penso che qui abbiamo fatto un po' tutto, abbiamo preso un po' tutto, quindi bisogna essere soddisfatti, assolutamente. Andrò a vedere poi nella guida se ho dimenticato qualcosa, ma non credo proprio. E usciamo dalla zona e ritorniamo nella mappa del mondo. Io vi saluto, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio di Super Mario RPG. Se vi è piaciuto questo, però, mi raccomando, iscrivetevi, commentate, mettete un bellissimo like. Se volete supportare il mio canale. Da Piero Zorbit è tutto, ciao a tutti. Ciao a tutti.